Buongiorno! Buongiorno! Ah si? Buongiorno! Ah no! Non ce l'ho! Salve! Buongiorno! Abbiamo prontato un tavolo per due! A nome Zuckerberg! Prego! Buongiorno! Grazie! Mi porto subito a me! Grazie! Marta, togliti gli occhiali! Grazie! Non si mangia al ristorante con gli occhiali! Te li toghi? Prego il menu! Grazie! Prego posso prendere le ordinazioni? Senza, ci potrebbe spiegare cosa sono i tagliolini langaroli alla YouTube con asparagi e fior di visualizzazioni? Certamente! La salsa YouTube è una salsa web che permette la condivisione e la visione di video! Senti, invece i guanciotti di Facebook stufati ai mi piace? I guanciotti di Facebook sono una pasta di rete sociale, guarnita di profili, amici e spolverata di condivisione e mi piace! Se vuole ci sarebbe una lezione privata nei laboratori di cucina! La mia collega la potrà accompagnare! Molto volentieri, grazie! Prego! Prego! Volentieri! Vieni anche tu! No! Vabbè! Senti allora, ti lascio questa! Ci vediamo dopo! No! 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 condividere con loro immagini o video commentare o mettere mi piace e quando i nostri amici faranno lo stesso con noi queste tre icone si illumineranno di rosso adesso vedi cosa sto riuscita a fare te lo portano subito ma che bellissimo bellissimo ecco il piatto che preparate grazie bonjour bonjour madame ah si? oggi cosa facciamo? cuisine madame prossimo passo tablet certo